Roberto Russo, si avvicina all'inizio di stagione del Club Italia, come sta procedendo il lavoro in generale? Molto bene, da quest'anno abbiamo un gruppo unico, non c'è più la Serie B, siamo 18 ragazzi, un gruppo più allargato, però già dagli allenamenti il livello è molto alto rispetto all'anno scorso e adesso ci prepariamo ad affrontare la prima giornata. Che gruppo è quello di quest'anno del Club Italia? È un gruppo molto giovane, composto prevalentemente dall'Under-19, quindi 99-2000, poi con qualche innesto come me, 97, un altro ragazzo. È un gruppo molto giovane che però ha tanta voglia di lavorare, quindi vedremo adesso il campionato. Quali sono gli obiettivi principali della squadra? Sicuramente crescere tecnicamente durante tutto l'anno e poi ogni partita dare il massimo e cercare di fare più punti possibili e vittorie. Sei uno dei più esperti e anche il capitano. Sì, da quest'anno ho una grande responsabilità e cercherò di sfruttare e insegnare soprattutto anche ai più piccoli, sia il comportamento sia sul campo, come i valori di questo sport. Se dovessi inventare un motto di questa squadra? One, two, three, vedremo. Adesso ci lavoro in palestra e vediamo cosa fare.